Questo non è sport. A tuonare è la prima cittadina di Montevarchi, Silvia Chiesse-Martini, dopo quanto accaduta al termine del derby valdarnese, con i bagni dello stadio devastati e due agenti finiti al pronto soccorso. La partita, Montevarchi-San Giovannese di domenica scorsa in Serie D, vinta dai padroni di casa per 2-1 in rimonta, si è infatti conclusa nel peggiore dei modi, con atti vandalici all'impianto sportivo Brilliperi di Montevarchi, danneggiato, come mostrano queste immagini pubblicate su Facebook dallo stesso sindaco. Nelle foto, i bagni all'interno dello stadio, fruibili dei tifosi devastati, con sciacquoni divelti e turche rotte, forse con petardi, ma anche danneggiamenti alla pista di atletica attorno al campo sportivo. La società ha già fatto denuncia, ha annunciato sui social il primo cittadino di Montevarchi, che ha spiegato anche che i due agenti sono finiti al pronto soccorso nel corso della fase concitata post-gara. Non aggiungo altro, chiosa Silvia Martinichi assai, ognuno faccia le sue considerazioni.